Puoi cominciare la sua presentazione, sì. Quando vuoi Maurizio puoi presentare. Va bene, subito. Allora, buonasera. Mi dispiace di dover parlare in italiano, spero di essere comprensibile, cercherò di parlare piano, però ci sarà l'aiuto del testo che dovrebbe comparire sulle diapositive. Ciò di cui vi voglio parlare questa sera è un argomento che è trattato solo in questo libro che è stato pubblicato nella sua tradizione del numero 7 dell'Azofre Rosso, e cioè il libro delle risposte arabe alle raccomandazioni, nel commento alle raccomandazioni di Yusuf. È un libro poco noto perché prima di questo lavoro era stato solo citato in delle note da Gerald Elmore, da Claude Haddass e da Ria D'Atlar, ma ne esistono peraltro solo dieci manoscritti, quindi è comprensibile che sia un'opera poco conosciuta. Posso, vediamo se riesco. Il concetto che è nuovo, diciamo, nel senso che l'ho trovato solo in quest'opera è quello di concetto di maestro immaginato. Il concetto di maestro esteriore è trattato diffusamente da Ibn Arabi nelle sue opere, ma il concetto di questo maestro immaginato è veramente unico e anche è difficile riuscire a trovare qualcosa di analogo in opere posteriori. Che quest'opera sia di Mouhiddin è attestato dal fatto che essa è menzionata nel Fichrist, che è l'elenco scritto da lui delle sue opere, con un titolo leggermente diverso perché invece di consigli c'è la parola quesiti, di Masail, e poi anche nell'elenco delle 43 opere che ha studiato Sadruddin Al-Qunawi insieme a Mouhiddin, con un titolo che è il libro delle allusioni arabe nel commento dei consigli di Yusuf. Qui vedete il titolo del manoscritto più antico a disposizione, che risale a alcuni decenni dopo la morte. È un titolo che è scritto in caratteri magrebini, quindi come vedete da questa fa col puntino sotto, mentre il testo dell'opera è scritto in caratteri orientali, quindi con i due punti sopra e la fa sotto. Questo può, diciamo, mettere qualche dubbio sulla correttezza del titolo perché non è inserito nel testo ed è stato scritto da un'altra mano. Invece qui vedete, sottolineato in giallo, nell'Ijaza che è stata redatta da Mouhiddin Al-Qunawi per le opere che lui ha letto, il Kitab Al-Isharat Al-Arabiyah Fishar Al-Nasai Al-Yusufiyah. Il fatto che sia incluse in queste 43 opere che rispetto alle centinaia che Mouhiddin ha scritto sia stata studiata segnala in un certo senso anche l'importanza di quest'opera rispetto ad alcune che pure sono note, ma che non sono state inserite in questo lavoro. Il Giuseppe o Yusuf a cui si riferisce il titolo non è il profeta, ma è un fakir, un giurista di Damasco che visse contemporaneo di Mouhiddin e morì alcuni anni dopo di lui e che Mouhiddin stesso conobbe personalmente, tant'è che lo cita anche nelle Futuhat perché era l'unico a sua conoscenza che aveva mantenuto il rito delle due rakat prima della salata del Maghrib, ma dopo il Maghrib. Le raccomandazioni che sono qui riferite a Yusuf nel titolo in realtà sono le raccomandazioni che Yusuf ha ricevuto dal suo maestro che si chiamava Ali Al-Kurdi. Ali Al-Kurdi è morto due anni dopo che Mouhiddin si installò definitivamente a Damasco, ma Mouhiddin l'aveva probabilmente conosciuto già in occasione della sua prima visita a Damasco nel 602 delle gira e lo menziona nel capitolo 226 in questi termini, parlando di coloro che sono folli, pazzi d'amore e che perdono quindi la ragione. Dice così questo folle si può dire morto per il fatto di essere stato privato della ragione. Egli viene quindi annoverato fra i morti per aver perduto la ragione e tra i vivi per il persistere della sua natura. Si tratta di esseri questi che fanno parte dei beati di cui Allah è soddisfatto con Mas'ud Al-Habashi e Ali Al-Kurdi e tanti altri che abbiamo visto in questa condizione sia in Oriente che in Occidente. Ora, la trasmissione di questi consigli da parte del maestro non era avvenuta in modo orale ma neanche scritto ma per ispirazione e Yusuf, il discepolo che non comprese a fondo il contenuto si rivolse ai ben arabi per avere quei chiarimenti che non poteva più ottenere dal suo maestro o perché il maestro era già morto o comunque perché non avrebbe potuto rispondere dato il suo stato di follia d'amore. Nel libro delle risposte arabe Ibn Arabi riferisce Egli, Yusuf, mi disse di non aver registrato nulla di questa raccomandazione per sua scelta né per una visione ma di aver trovato nella sua anima ciò che aveva menzionato e di averlo registrato così come l'aveva trovato e che in quel momento cioè era per lui materia del suo compagno Ali Al-Kurdi in cui credeva e da cui la materia si era infiltrata in lui in tutto ciò che trovava nella sua anima indipendentemente che la faccenda fosse elevata o inferiore Per questo, quando discussi con lui di ciò che era assortito da lui capii che non sapeva ciò che comportava quanto aveva proferito ed egli mi chiesi di commentare quello che aveva registrato di ciò che era arrivato Io gli risposi riguardo a quello Quindi questo è il punto di partenza del libro Il libro è costituito dal testo quasi integrale dei consigli che poi è commentato passo per passo da Ibn Arabi come lui stesso afferma Questo è il commento di ciò che ha proferito la spiritualità del servitore preso da follia il cui cuore è pazzo d'amore Ali Al-Kurdi tramite la lingua di chi conosceva il suo stato e si basava su di lui come autorità Yusuf Ibn Ibrahim Ashafi il suo compagno nel lignaggio nel lignaggio perché entrambi erano originari del Kurdistan erano entrambi i kurdi Vediamo che questo insegnamento è stato trasmesso dalla spiritualità non dal maestro in sé stesso quindi è in una modalità che non è ordinaria e in questo primo brano Ibn Arabi ratifica quella che era l'opinione di Yusuf secondo la quale l'insegnamento proveniva direttamente dal suo maestro ma in realtà la questione è più complessa Ibn Arabi la spiega dualmente e nel corso di questa spiegazione egli introduce questo concetto di maestro immaginato espressione che non c'è nel testo delle raccomandazioni ma che è proprio riportata da Ibn Arabi e quindi è lui che l'ha coniata non è il che l'abbia adottata da un altro maestro a metà circa, poco prima della metà dell'opera la prima volta che introduce questo concetto afferma sappia innanzitutto che quando l'aspirante ha fiducia nel maestro Allah pone per lui nella sua anima un'immagine del maestro questa immagine è ciò che egli contempla o attesta e che predomina in lui tanto che dice questo è il maestro e non dice è come se fosse lui ma dice è proprio lui e così essa è proprio lui egli menziona quindi quella questione che voleva porre al maestro vero e reale al maestro immaginato che esiste e che è presente nella sua immaginazione così come il credente che fa la salat colloquia nella sua Qibla con Allah si tratta di un'immagine che è non prodotta intenzionalmente dall'aspirante bensì come dice qua è apposta ad Allah direttamente nella sua immaginazione e la cui presenza è tanto forte che l'aspirante crede che sia il maestro stesso sì che pone a lui i quesiti al maestro immaginato che avrebbe voluto porre al suo maestro esteriore il termine che ho tradotto come immaginato mutawaham è assai insolito poiché quando Ibn Armi parla di immaginazione usa di preferenza il termine khayal e quindi ci saremmo aspettati piuttosto la parola mutawahayal in realtà il termine wahme spesso indicato usato per indicare la congettura significa anche immaginazione fantasia ma quando in una frase come questa che abbiamo riportato si trova sia mutawaham che khayal ed il primo non può significare congetturale ma solo immaginato si deve dedurre che wahme e khayal indicano due aspetti diversi dell'immaginazione in effetti vi è un passo del capitolo 369 delle Futuhat in cui Ibn Arabi spiega questa differenza egli ha fatto dell'immaginazione una presenza intermedia fra i due estremi del sensibile e dell'intelligibile ed essa, immaginazione khayal è il deposito dei dati che i sensi raccolgono ed ha posto in essa una facoltà generatrice di forme quam musawira sotto il regime della ragione e dell'immaginazione e la ragione dispone di essa con il comando e anche l'immaginazione wahme dispone di essa con il comando ed in questa costituzione umana egli ha reso forte il potere dell'immaginazione sulla ragione e non ha concesso alla facoltà della ragione di percepire realtà prive di substrato materiale se non per mezzo di una concezione formale e questa concezione formale dipende dal regime dell'immaginazione non dal suo la sensazione trasferisce all'immaginazione ciò che ha percepito e la facoltà generatrice di forme compone nell'immaginazione khayal quello che vuole di ciò che non ha esistenza nel mondo sensibile come insieme non quanto alle parti dell'insieme che invece esistono ora in questo brano khayal è una specie di provincia della memoria un deposito delle immagini acquisite coi sensi cioè quella che in psicologia si chiama immaginazione riproduttrice essa associata ad una facoltà di generazione di forme che obbedisce sia alla ragione che al wahm che corrisponde quindi a ciò che nella psicologia si chiama immaginazione combinatrice o creatrice e che ha potere non solo sulla facoltà generatrice di forme ma sulla ragione stessa ora l'aspirante che ha un maestro ha già nella sua immaginazione riproduttrice un'immagine del suo maestro prodotta dalla percezione sensibile e non è quindi questa immagine che la depone nella sua immaginazione il maestro immaginato è qualcosa che arriva all'immaginazione non dal basso per la via sensibile ordinaria pensi dall'alto dal dominio intellegibile o spirituale e per questo ha una capacità di interazione con l'aspirante che manca all'immagine prodotta dai sensi in altre parole non si tratta dell'immagine del maestro ma del maestro immaginato veniamo dunque a seguito dell'ultimo brano riportato in cui l'aspirante riconoscendo il maestro immaginato come il suo maestro gli pone un quesito se Allah fa sapere al maestro originale quell'esteriore lo stato in cui ti trovi egli conosce la questione e muove quel maestro immaginato che tu contempli fornendoti la risposta a quella questione in vero quel maestro che hai in te stesso sta al maestro esteriore come l'ombra alla persona ed è quindi l'ombra del tuo maestro attaccati quindi a lui ciò che lo produce presso di te non è altro che la luce della tua veridicità ed essa lo estende nella tua natura per mezzo della luce divina che è in te da parte sua per la fede nel tuo maestro e ciò succede spesso agli aspiranti veridici in questo brano molto denso Ibn Arabi fornisce al Yusuf e al lettore molti chiarimenti e anzitutto spiega che il maestro immaginato è mosso dal maestro esteriore che tramite il primo fornisce la risposta al quesito dell'aspirante senza essere fisicamente presente e di questo Muhyiddin da molti esempi anche in altre opere in secondo luogo chiarisce che il maestro immaginato che l'aspirante aveva identificato inizialmente con il suo maestro è in realtà la sua ombra infine spiega che quest'ombra è prodotta dalla luce della veridicità che l'aspirante proietta sul suo maestro e che la luce divina che si trova nell'aspirante per via della sua fiducia nel maestro rappresentante per lui di Allah e stende nella sua natura dell'aspirante aggiungendo che ciò avviene spesso va anche precisato che il termine Sitke implica qualcosa di più di quanto viene inteso dai termini veridicità o sincerità con cui viene tradotto in mancanza di una parola più appropriata uno può essere sincero e dire qualcosa di falso uno può essere veridico e dire qualcosa di vero non può dire qualcosa di falso se è veridico ma la veridicità il Sitke è qualcosa ancora di più e lo specifica nel capitolo 136 delle Futuhat dove che è dedicato al Sitke dice la veridicità è intensità e forza nella religione e lo zero per Allah e tra le sue condizioni colui che l'ha realizzata possiede la facoltà di agire per mezzo dell'aspirazione al Fielpil Imma corrispondente alla forza della fede qui in questo paragrafo il concetto di forza ricorre più volte e non è infatti pertinente né alla sincerità né alla veridicità ma è proprio questa forza che ha l'origine dell'immagine o coppia del maestro che Allah pone nell'immaginazione dell'aspirante questa stessa forza della fede dell'aspirante può far sì anche che Allah intervenga non solo sull'aspirante quando gli dona l'immagine del maestro anzi il maestro immaginato ma sullo stesso maestro come Ibn Arvi spiega nel libro in realtà per noi se l'aspirante è veridico nel suo rivolgersi verso Allah e nel suo rivolgersi non cerca altro che Allah Allah non lo dirige se non su un maestro realizzato della lingua sincera nella sua asserzione di essere tale se poi il maestro non è in questa condizione ma l'aspirante crede sinceramente che egli sia uno che comunica da parte di Allah e non ha esitazione in ciò di cui è convinto per la sua veridicità Allah si è esaltato provvede a quel maestro l'assistenza, la scienza e il buon consiglio per ciò di cui questo aspirante ha bisogno e che egli non possedeva, né conosceva da se stesso e solo per ciò che riguarda questa faccenda questo è molto forte diciamo cioè l'aspirante con la sua forza di aspirazione quanto più questa è sincera può condizionare persino la conoscenza del maestro che acquisisce a fronte di questa sua aspirazione delle conoscenze, perché gliele manda Allah che non aveva da solo e che però riguardano solo quell'aspirante abbiamo detto che il maestro immaginato interagisce con l'aspirante a differenza dell'immagine semplice del maestro nata dai sensi e come interagisce Ibn Arabi lo chiarisce in questo passo questo aspirante quindi desidera ardentamente il maestro esteriore finché diventa per lui come la sua ombra che è il maestro immaginato e questo è il punto di appoggio più vicino per lui quando apprende dal maestro immaginato dice l'ombra del mio maestro mi ha riferito da parte del mio maestro e quando apprende dal maestro esteriore al momento dell'incontro o comprendendo da lui per come egli lo guarda o perché il maestro gli rivolge direttamente la parola e gli dice il mio maestro mi ha riferito in entrambi i casi si vede che usa l'espressione mi ha riferito e che vuol dire che si tratta di qualche cosa che è dell'ordine discorsivo ma è un ordine discorsivo non esteriore bensì interiore come un impulso o un proposito il proposito nel senso di khatir che è una delle modalità con cui può essere trasmesso anche il discorso divino perché ci sono dei propositi, dei khawatir che sono rabbania o ilahia poi ha detto dopo quello e se prova un impulso khatir a fermarsi di fronte a lui ovvero l'impulso che lo spinge proviene da quel maestro immaginato e adesso è a guisa a guisa vuol dire come il chiamante, il dai, il del vero che c'è nel cuore di ogni credente quando egli vuole che il credente si penta Allah gli fa sentire quel chiamante quindi una voce interiore ed in vero il chiamante non cessa mai di chiamare al pentimento ma nelle orecchie vi è sordità e quando cessa quella sordità dell'orecchio di chi è chiamato egli sente e risponde e si affretta a fare ciò a cui è chiamato analogamente si affretta quest'aspirante quando prova l'impulso poiché esso è il proposito ispirato dal maestro esteriore il maestro immaginato è il suo interprete e l'impulso è la lingua dell'interprete il maestro esteriore agisce quindi sull'aspirante con la sua himma con la sua aspirazione e volontà e cioè è reso possibile dalla connessione della himma dell'aspirante con il maestro come viene precisato in questo brano subito seguente nel credo dell'aspirante è implicito che il maestro agisce in lui con la sua aspirazione o himma senza dover ricorrere a un'espressione verbale bensì la sua espressione è interiore si tratta dell'orientamento della volontà da parte del maestro verso ciò che egli vuole da lui e la sua causa mediata è la connessione dell'aspirazione dell'aspirante himma dal morid con il maestro e il maestro è più vicino a lui della sua stessa anima e non è altro che il maestro che si trova nel suo proposito in altre parole deve attualizzarsi uno stretto legame fra il maestro e il discepolo legame che non è però di natura solo mentale bensì effettivo e di venare lui identifica una fine realtà rachica che è nel contempo una corda e un canale di trasmissione come è preciso nel libro a proposito di rachica Grazia Lopez ha recentemente un paio di mesi fa fatto una magistrale presentazione su questo concetto di rachica in un corso di conferenze della MIAS di Oxford tra l'aspirante cioè il cuore dell'aspirante e il maestro si estende una fine realtà ed essa è una corda che lo collega al maestro per mezzo di quella fine realtà egli lo attira e per mezzo di essa l'aspirante è attirato a lui ed essa è simile la corda di Allah a cui Allah ci ha ordinato di attaccarci finora Ibn Arabi ha lasciato intendere a Yusuf e a noi che leggiamo che il maestro immaginato è l'ombra del maestro esteriore e che in quanto tale i propositi che espira nell'aspirante provengono esclusivamente dal maestro esteriore ma la realtà è più complessa il maestro esterio immaginato può agire anche a insaputa del maestro esteriore in modo autonomo dice quanto al suo detto in vero il maestro ti ha ispirato ciò e ti ha informato devi distinguere se si tratta del maestro che è fisicamente esteriore a te è indispensabile che il maestro abbia conoscenza di questa ispirazione ed informazione affinché se interrogato dica le stesse cose che l'aspirante ha trovato in se stesso da parte del suo maestro se invece il maestro non è a conoscenza allora l'ispirazione e l'informazione è al luogo in te solo da parte del maestro immaginato che abbiamo detto essere la sua immagine quindi dopo avere descritto il maestro immaginato come un'ombra del maestro effettivo del maestro esteriore scusate non effettivo del maestro esteriore che viene ispirata nell'anima del cuore dell'aspirante qui aggiunge anche che in realtà il maestro immaginato può agire in modo autonomo in effetti se noi pensiamo che l'ombra da un lato riproduce i contorni e i movimenti di ciò qui è l'ombra ma dall'altro lato essa appartiene a ciò che è nel supporto e su cui si proietta quindi nel caso del maestro immaginato essa è una parte integrante dell'aspirante quando questa parte agisce non come ombra ma in modo autonomo l'aspirante non può affidarsi ai propositi che gli vengono ispirati con la stessa sicurezza con cui si affida l'indicazione del maestro esteriore o ai propositi che questi gli ispira tramite il maestro immaginato cioè nasce un problema di di sicurezza di quello che gli viene ispirato perché non è più solo il maestro esteriore che agisce tramite il maestro immaginato ma può agire autonomamente il maestro immaginato e allora che cosa deve fare l'aspirante quando ti informa e ti ispira il maestro esteriore che ha una scienza e una visione interiore di ciò è più profittevole più utile e più completo nei tuoi riguardi mentre quando ti informa e ti ispira il maestro immaginato sei tu che ispiri te stesso e tu sei la sede del dubbio talvolta cogli nel giusto e talvolta sbagli e quindi hai bisogno di conoscere ciò che distingue i due maestri nell'ispirazione che ti viene dal maestro esteriore non hai bisogno di una bilancia ma la accetti l'ispirazione in modo remissivo anche se non ne conosci il significato nell'ispirazione che ti viene dal maestro immaginato invece hai bisogno di una bilancia e quindi esiti ad accettarla l'ispirazione finché la bilancia non depone a favore di essa poiché egli il maestro immaginato è te stesso non è il maestro che tu segui per distinguere i due maestri cioè il maestro immaginato che agisce come l'ombra di quello esteriore e il maestro immaginato che agisce in modo autonomo l'aspirante può e deve confrontarsi con il maestro esteriore a cui conformemente la regola della via deve riferire tutti i propositi che gli si presentano ma la faccenda diventa più complicata quando il maestro esteriore non c'è più o non è in condizione di comunicare per le vie ordinarie come nel caso di Al-Kurdi poiché l'esistenza del maestro immaginato non dipende dall'esistenza corporea del maestro esteriore quando questi muore il maestro immaginato persiste nel cuore dell'aspirante come viene precisato nel libro che è già stato detto che l'aspirante ha nel suo cuore un'immagine del suo maestro che è chiamato maestro immaginato che è inseparabile da lui e che resta perennemente con lui che il maestro sia trasferito nell'aldilà o che non sia trasferito che sia morto vivo quindi quel maestro che sussiste nella sua immaginazione non cessa e non muore e per questo ha detto il loro sguardo resta ora dopo aver fornito gradualmente tutti questi chiaramenti finalmente Ibn Arabi spiega a Yusuf e a noi che lo abbiamo seguito che gli insegnamenti che Yusuf aveva ricevuto contrariamente a quanto lui credeva non prevenivano solo dalla spiritualità di Ali Al-Kurdi ma in parte anche dal maestro immaginato prodotto dalla forza della sua fede nel maestro esterile sappi innanzitutto che ogni raccomandazione e conoscenza che sia manifestata sulla lingua di questo Yusuf di ciò che egli conosce Yusuf viene da lui per altri che lui anche se chi ne parla è Ali Al-Kurdi il suo maestro e tutto ciò che sia manifestato sulla sua lingua di ciò che non conosce è la lingua di Al-Kurdi Ali Al-Kurdi che lo raccomanda Yusuf il suo discepolo di volta in volta così esige la saggezza che era chiusa in questi fogli se Ali ne era a conoscenza cioè sapeva quello che il maestro immaginato gli aveva esposto allora era Ali che vi provvedeva e quindi era il maestro immaginato che veniva agito da quello esterione se invece non lo sapeva in modo specifico allora ciò veniva dalla veridicità Sittpe di Yusuf nei confronti di Ali ed è quella veridicità che ha prodotto la forma di questo maestro nella sua immaginazione se invece Ali lo sapeva allora è l'aspirazione di Ali che ha prodotto la sua immagine nell'immaginazione di Yusuf e poiché Yusuf mi disse di tutto ciò che abbiamo menzionato il maestro Ali non mi ha parlato a tu per tu in un colloquio esteriore seppi che tutto quello veniva dall'immagine del maestro creata dall'ispirazione di Ali se ne era al corrente o dalla veridicità di Yusuf se Ali non ne aveva scienza ho detto all'inizio che questo concetto di maestro immaginato si trova solo in quest'opera e in realtà anche in testi di maestri contemporanei o successivi l'espressione maestro immaginato in questi termini non l'ho mai trovata i fondamenti di questa figura del maestro immaginato nasce da due elementi che sono il legame che abbiamo visto che Ibn Arabi identifica come un'arakicam che il legame in altri casi viene espresso col termine rabita rabita scusate e dall'altro è l'orientamento l'indirizzamento del maestro Attawajjuf nei confronti dell'aspirante un contemporaneo di Muhyiddin Najmudina Kubra fondatore della Tarika Kubravia in una delle sue opere principali scriveva noi diciamo che quando la volontà si rafforza e diventa volontà intesa come irada l'aspirazione si rafforza e diventa più intensa e la ricerca è veridica tra colui che ha l'aspirazione e l'oggetto della ricerca si attualizza un legame rabita simile all'architam che lega due cose o la lancia nelle mani dello schermidore e il petto dell'alto contendente o alla freccia o alla luce fra il sole e la terra e da là lega i cuori dei suoi servitori che tornano a lui mediante una luce da parte sua e colui che viaggia nella via assapora un legame fra lui e il cielo come se essi fossero una cosa sola e talvolta vede una catena discendere dal cielo al suo cuore e si attacca ad esso si tratta della corda di Allah vediamo che qui ricorrono molti dei termini che abbiamo visto nelle citazioni del kitab alla jviva ma non si parla dell'immagine del maestro Najmuddin Razi chiamato Daya che fu il principale diciamo islamizzatore del Kashmir nei suoi Manasi la Sairin riporta una formazione anche simile la settima condizione è il legame del cuore con il maestro rabbit espressione che indica la connessione del cuore dell'aspirante con il maestro da parte della sua aspirazione completa e perfetta al punto che gli è certo che è lui il maestro che lo farà arrivare da là e quando l'aspirante è connesso con il suo maestro in questo modo è indispensabile che egli sia certo anche che la spiritualità del maestro non è condizionata dallo spazio in qualsiasi posto l'aspirante si trovi la spiritualità del maestro non si separa da lui anche se la sua persona è separata da lui e la lontananza o la separazione riguarda solo l'aspirante quindi abbiamo anche qui il concetto di legame dell'importanza anche dell'azione della spiritualità del maestro ma non compare la figura del maestro immaginato in una tarica diversa nella tarica Shadiliya Ibn Atallah in un'opera Miftah al-Falah in cui in 4-5 pagine riporta testualmente delle sezioni del Kitab al-Amr al-Murqam di Ibn Arabi senza dire che si tratta del Kitab al-Amr e quindi era sicuramente a conoscenza dell'opera di Muhiddin e gli scrive essi dicono i maestri e se l'aspirante è sotto lo sguardo di un maestro egli si deve immaginare il suo maestro davanti ai suoi occhi poiché è il suo compagno nella via e la sua guida e deve attingere con il suo cuore appena incomincia a recitare lo zikr della himma del suo maestro essendo convinto che il suo attingere da lui è il suo attingere dal profeta in quanto egli è il suo luogotenente qui compare l'idea di un'immagine del maestro ma è un'immagine che è volutamente prodotta dall'aspirante non è qualcosa che gli arriva quindi è un concetto diverso da quello che ha espresso Muhiddin sappiamo che in particolare nella Tarika Naqshbandi i termini Tawajur e Rabita hanno un significato tecnico molto preciso e un'importanza nel metodo che vediamo essere segnalata in questo che è uno dei manuali recenti più diffuso nella Tarika scritto da Muhammad Amin Al-Kurdi dove dice poi fissa l'immagine del tuo maestro quindi fai tu l'immagine del tuo maestro e conservalo nella tua immaginazione che egli sia sento presente e approfondisci lo sguardo dalla tua fronte alla sua fronte e attingi da lui la baracà con il tuo cuore poi proietta con l'immaginazione la forma del maestro nel mezzo del tuo cuore grazie ad essa forma otterrai il beneficio della riunione ora nelle Futuhat e anche in quest'opera di Muhiddin non parla mai di una rappresentazione intenzionale voluta del del maestro e uno può chiedersi se lo riteneva Muhiddin una cosa diciamo autorizzata lecita o no e un punto della sua opera di quest'opera del libro delle risposte arabe in realtà ci dà una risposta dice quanto al suo detto quando l'aspirante lo cerca egli viene da lui quando lo cerca si tratta del maestro immaginato viene da lui immediatamente e sollecitamente e come potrebbe essere altrimenti dato che egli è più vicino a lui di lui stesso egli è identico a quell'immagine che è indispensabile e ciò è simile al suo detto riguardo al vero adora Allah come se lo vedessi poiché anche se tu non lo vedi egli comunque vede te introducendolo nella presenza dell'immaginazione con il suo detto come se lo vedessi in cui ha usato il come della comparabilità tashbir in altre parole e questo è il punto immagina di star di fronte a lui nel tuo atto di aderazione a lui come se lo stessi guardando cioè rappresentalo davanti ai tuoi occhi poiché la vista della tua immagine di lui è la vista di lui ciò che ci sta dicendo non è solo di immaginare di essere di fronte ad Allah nell'atto di adorazione cosa che è relativamente facile ma anche di immaginare lui di fronte a noi cosa che è assai più difficile poi con quale forma possiamo rappresentarlo davanti ai nostri occhi tuttavia è ingiusto è ingiunto di farlo e poiché nel più ci sta almeno l'attualizzazione intenzionale da parte dell'aspirante dell'immagine del maestro che non è altro per lui che rappresentante del vero era certamente una pratica legittima anche per Ibn Arabi anche se non del tutto assimilabile al maestro immaginato di cui parla nel libro delle risposte arabe io ringrazio per la pazienza di aver ascoltato in italiano spero che qualche cosa sia riuscito a passare grazie molti grazie Maurizio grazie se volete Maurizio sì allora io sul numero 7 volevo solo riportare ancora sul libro delle risposte arabe una vediamo un po' eccolo qua questo se si riesce a vedere mi chiedo se lo vedete non ho se vedete di giuro sarà più che il nostro commento ah sì scusate scusate mi arrivo eccolo qua ci siete? io non ho perso il filo qua dove siete? qua pablo dovresti rifarlo co-host devi fare co-host però sta è fatto sta è fatto è fatto sta è di confettione potrebbe come no non può condividere le schermi non è co-host come è uscito è riuscito non è co-host al momento pablo le tienes entonces non si sta parlo co-host già sta già sta Maurizio già puoi vediamo ok nel libro delle risposte arabe proprio all'inizio Muridin fa due affermazioni che possono un po' sconcertare dice sappi che il nostro commento al discorso di questa persona come di altri appartenenti alla gente della via non corrisponde a come le cose stanno in realtà ma è conforme a ciò a cui arriva il loro svelamento e quello dei loro simili e quello è il punto di arrivo della loro scienza se dovessimo dire come le cose stanno realmente le facoltà di comprensione della gente della via non vi arriverebbero e a maggior ragione quelle di coloro che sono inferiori a loro e poi la pagina dopo dice noi abbiamo già detto come stanno realmente le cose nel libro al fruttatata al macchia disseminando il nostro discorso in capitoli diversi affinché non abbia luogo una chiara esposizione di ciò e non si acceleri verso di esso la negazione di coloro che negano ciò che ignorano ora noi come siamo fatti gli occidentali se ci viene detto ma io non vi dico le cose come stanno l'ho detto in un'altra in un'altra opera la nostra reazione sarebbe di vabbè ma allora vado a leggermi l'altra opera non mi interessa sapere che cosa tu stai scrivendo qua ma il punto di vista di Muhyiddin non è quello di volere escludere il lettore da una conoscenza ma è quello di riuscire a portarlo gradualmente che è il percorso normale alle cime più elevate e per arrivare alle cime più elevate bisogna partire dal punto più basso ed è questo l'interesse di quest'opera che è stata scritta per un fakih quindi un un dottore della legge che era sì ricollegato al suo maestro ma che non aveva fatto poi in mente molta strada perché non riusciva a capire neppure l'insegnamento del suo maestro e questa è una situazione alla quale forse è più facile identificare noi stessi che è quella di coloro a cui è indirizzato le Futuhat che sono in genere degli Aulia cioè degli intimi o dei santi ed è per questo che mi sono interessato a quest'opera e ho tralasciato un po' la traduzione delle Futuhat perché è qualche cosa che in un certo senso ci riguarda più direttamente un esempio è il fatto che all'inizio Muridin riporta una frase di Abu Yasid che dice voglio non volere e ne spiega anche tutto il significato poi dopo verso la fine dell'opera afferma ma quando Abu Yasid ha detto voglio non volere prima era ancora nell'epoca in cui era sotto il velo e all'inizio della sua faccenda perché a quel punto non sta più parlando del rapporto maestro-discepolo ma sta parlando di esseri che sono già arrivati molto in alto tant'è che parla persino dell'investitura diciamo al centro al centro supremo nel caso della cosiddetta camera segreta di Abdelkader al Gili quindi è vero l'obiettivo finale è quello ma per poter arrivare come è stato anche per Abu Yasid lui è partito dicendo voglio non volere e poi è arrivato invece dove la volontà ha una grande importanza e facendo tutto un percorso che è quello che viene descritto in quest'opera nel volume settimo della rivista Zufferrofo come ha anticipato Amina e Pablo c'è anche la traduzione con l'edizione di un libro molto breve un decimo dell'altro che si chiama il libro della certezza Kitaboyakim adesso tolgo la divisione voilà Kitaboyakim questo volumetto è stato scritto da Muhyiddin in una in una mezza mattinata mentre era in visita alla cosiddetta moschia della certezza ed era andato a fare visita alla tomba di Abramo a Hebron nel 602 era la seconda volta che vi andava e nel percorso verso dalla tomba di Abramo da Hebron alla tomba di Lot si trova una piccola moschia che esiste ancora oggi anche se in rovina in cui si dice che Abramo venne fatto restare in attesa di Lot mentre gli angeli punivano si occupavano di Sodoma e di Umora e si chiama Moschia della certezza perché quando Abramo vide la sorte della città disse questa è la certezza ciò di cui parla Muhyiddin in questa in questa breve opera molto sintetica anche perché lui stesso dice avevo poca carta non potevo scrivere molto perché erano in tre lui e due compagni quindi non c'era una grande disponibilità di risorse e la certezza ma in un senso molto particolare nel senso che mentre il Futuhat per esempio lui parla della certezza riferendosi alla certezza che abbiamo noi quindi le famose espressioni coraniche la scienza della certezza l'occhio della certezza la verità della certezza e poi la quarta che invece non è coranica ma è sunna da un hadith che è la realtà essenziale o la hakika della certezza sono riferite alla nostra scienza quindi l'esempio che fa lui stesso Mufidin in questi casi quando parla in questa in quest'ottica dice tutti sanno che alla Mecca c'è un edificio sacro che si chiama la Kaba e questa è la scienza della certezza quando poi tu vai alla Mecca e la vedi quella è la visione della certezza quindi è riferito a noi per poter capire invece quello che sta scrivendo che ha scritto in questo breve volumetto è che la scienza l'occhio e la verità non sono quelle nostre ma sono quelle della certezza stessa cioè la certezza per lui non è qualche cosa solo di interiore nostro è qualche cosa che può sussistere anche senza un supporto esistente è un'idea un'amana una hachica che ha è la stessa un occhio una scienza una verità e una realtà essenziale e che così a così lo si dimostra anche dal dal Kitabu di Sera in cui proprio c'è un analogo passo in cui è chiaramente la certezza che vede con il suo occhio i credenti o coloro che cercano di arrivare a essa quindi è una prospettiva molto particolare e non di immediata comprensione allora uno si chiede ma che cosa sono le nostre certezze le nostre certezze sono qualche volta delle vere certezze come l'esempio che ha fatto Muhyiddin della Kaba o della morte della scienza della morte ma Muhyiddin dice la maggior parte delle volte non sono certezze sono convinzioni e le convinzioni sono soggette a errore a dubbi mentre la scienza è in contrasto con l'ignoranza la certezza è in contrasto si oppone al dubbio e il fatto è che le nostre convinzioni sono basate sul lavoro della nostra mente del nostro pensiero sulla nostra ragione e mentre la certezza è qualche cosa che non non è abbordabile con la ragione Muhyiddin dice non è l'uomo che arriva alla certezza è la certezza che arriva all'uomo coripondente conformemente a quello che è il versetto finale della surah Gijra la 15 dice adora il tuo signore finché ti arriverà la certezza ti arriverà è qualche cosa che arriva non è qualche cosa a cui tu arrivi in questo testo lui precisa che la certezza quella certezza della stazione della certezza è costituita da otto elementi e otto volte è il numero in cui è citato nel Corano di cui quattro sono corporei e sono le quattro lettere che lo costituiscono la ya isolà la ya completa la la taf la ya diciamo breve e la e la e la nun e di cui parla nel nel testo con una esposizione molto sintetica e complessa sul significato delle lettere e poi parla di questi quattro gradi invece spirituali che sono la scienza che ha la certezza l'occhio che ha la certezza non la nostra certezza e la hak e la hakica della certezza e quindi è una prospettiva molto particolare che naturalmente come spesso succede nell'opera di Muhyiddin porta a sconcerto colui che lo legge volevo nell'ultimo quarto d'ora che mi è concesso parlare anche del libro che è stato recentemente pubblicato che è la traduzione del capitolo 71 delle Futurata Nathan Macchia intitolata I segreti del digiuno questo libro in realtà era già stato tradotto come estratti da da Gilis nell'89 nel 2009 da Alicia o Aisha Biuli in modo integrale ma senza in inglese senza note e nel 2016 da Eric Winkel la mia traduzione risale a oltre dieci anni fa l'aveva fatto sulla base delle due edizioni che erano disponibili cioè quella del Bulac e quella di Osmaniyahia e in questo capitolo similmente a quello che fa negli altri quattro capitoli che sono dedicati ai pilastri dell'Islam Muhyiddin introduce l'argomento spiegando qual è il significato del rito e poi a seguire da delle indicazioni sui dettagli tecnici che si devono rispettare nell'applicazione del rito su questo aspetto sembrerebbe simile a per esempio un capitolo dedicato al digiuno in uno dei manuali di Firk cioè di diciamo di scienza di giurisprudenza scienza della legge tradizionale con in più la spiegazione ma in realtà vi è una grossa differenza fra quello che è il testo che ha presentato che presenta Muhyiddin e quello di un manuale di Fick nel manuale di Fick per ogni situazione particolare dettagliata vi è una risposta e in genere le altre risposte non sono valide ce n'è una sola che è valida Muhyiddin invece in questi capitoli dedicati ai pilasti dell'Islam riporta esattamente il contrario numerose possibilità di regole che si applicano in diverse situazioni e qualche volta aggiunge questo è il mio punto di vista ma non critica mai le divergenti risposte e non dice mai questa è giusta e questa è sbagliata e questo ci sconcerta perché noi così moderni siamo abituati a considerare che se una regola è fatta in una certa maniera e questa è giusta la regola opposta non può essere giusta deve essere sbagliata ma questo non è per Muhyiddin e di questo parlo nell'introduzione a questo testo e il punto di partenza è che i fondamenti della delle regole diciamo della legge tradizionale per Muhyiddin sono tre cioè il Corano la Sunna cioè gli aditi autentici e la Ishma cioè il consenso che però per lui si limita al consenso della prima generazione non a tutte le generazioni a seguire quanto all'analogia al Qiyas anche se alcuni lo accettano lui dice per noi non è da applicare in questa situazione ora la conoscenza di questi tre fondamenti Usul non è obbligatoria per tutti i credenti anzi un tanto il Corano quanto tutta la somma di tutti gli Hadith qualche cosa che pochi possono permettersi di conoscere e questi pochi sono quelli che sono i dottori della legge i Fukaha il Fakir ed è a questi dice Muriddin che il credente che non sa in una certa situazione come deve comportarsi deve rivolgersi non deve fare lui una ricerca sul testo perché è destinata a sbagliare deve rivolgersi a uno che sa fondandosi su quello che dice il Corano quando voi non sapete chiedete alla gente dello Zikra e Muriddin dice colui che viene interrogato deve fare uno sforzo di giurisprudenza Ishtihad che è quello di andare a compulsare diciamo studiare i testi riferiti a una certa situazione nelle tre fonti autentiche della legge del diritto e trovare delle indicazioni che aiutino a dare una risposta al quesito che viene posto e Muriddin dice che la risposta può anche non essere quella che avrebbe dato il profeta ma è comunque valida anche se sbagliata questo è qualche cosa che ci sconcerta ma che è proprio insita nella legge dell'Islam come vedremo ora le regole che deve seguire un Fakir Mushtahid è quella di primo non non seguire una una fatua una risposta che sia stata adotta un altro né una che lui stesso ha dato in una situazione diversa quindi la ricerca seconda regola è quella di fare ogni volta una ricerca sulle fonti del diritto per trovare la risposta anche se viene risposta di nuovo questa domanda lui deve fare nuovamente la ricerca e può arrivare una risposta anche diversa poi poi non deve mettere in discussione le risposte diverse dalle sue quindi possono essere tutte valide purché siano state fatte queste ricerche secondo la regola e punto finale è che la risposta è vincolante per lui per colui che ha fatto lo sforzo ma non è vincolante per colui che chiede cioè colui che chiede può anche non attenersi a quello può chiedere a un altro e scegliere quello che più gli conviene ora le scuole di diritto i quattro mafab secondo quanto scrive Mufiddin sono esattamente al contrario di queste quattro regole perché impongono dice di rispettare quello che è codificato nel nello come come le parole degli iman fondatori mettono in discussione quello che è la risposta che viene dato su certe questione da altri riportano senza fare delle ricerche queste fatua e non fanno più nessun ishtihad perché Mufiddin dice a quell'epoca ormai i seguaci dei quattro mafab avevano spento chiuso la porta dell'ishtihad e quello che è un'affermazione forte che lui fa dice questo fatto che le quattro scuole giuridiche impongano delle regole è una delle peggiori calamità nella tradizione e dice anche che i quattro imam che sono chiamati fondatori in realtà non sono dei fondatori perché loro non hanno mai voluto fondare anzi riporta l'esempio di Malik che si rifiutò di riportare in un codice le sue risposte come gli aveva proposto il califo della sua epoca quindi le risposte che vengono così riportate possono corrispondere a diversi a quelle che sono state fatte da diversi imam o anche da non da fondatori di queste quattro cosiddetti fondatori ma sono per lui tutte accettabili valide cioè il credente che si adegua a una di queste avendo fatto l'interrogazione avendo ricevuto la risposta è ricompensato per l'averlo seguito e dice anche il mustahid che dà una risposta che è sbagliata a una ricompensa il mustahid che invece dà la risposta giusta nel senso che è conforme a quello che avrebbe fatto come risposta il profeta se gli fosse posto il quesito a due ricompense quindi non c'è nessuna punizione in tutto questo allora il eccolo qua scusate voglio andare giù collezione tra domani arrivo eccolo qua il fondamento principale manco cinque minuti penso di starci di tutta questa questione riportata da Muhiddin nel capitolo 340 in cui in una dimora iniziatica il vero stesso è lui che parla gli dice non vedi come Muhammad quando io resi obbligatorio per lui e per la sua comunità 50 salat scese con esse e non disse nulla ne ribatté e non disse questo è tanto e quando arrivò da Mosè nella discesa questi Mosè gli disse torna dal tuo signore forse egli alleggerirà il carico alla tua comunità io per quello ho sopportato cose terribili da parte dei figli di Israele e la tua comunità è incapace di sostenere un carico simile e sarà disgustata da esso Muhammad restò disorientato il perfetto Adab implicava il non controbattere come aveva fatto e la sua compassione per la sua comunità esigeva da lui l'alleggerimento per essa affinché Allah non venisse adorato con dispetto né con avversione fastidio e indolenza e rimase disorientato e finise a cercare di capire se fosse più importante ciò che gli aveva detto Mosè o ciò che aveva osservato come Adab con Allah Allah in precedenza menzionando l'insieme dei profeti tra cui anche Mosè su di lui la pace gli aveva detto costoro sono coloro che Allah ha guidato tu segui la loro guida e Muhammad interpretò che questo era ciò che gli indicava della loro divida e non capì al momento che Mosè quando era nello stato della sua guida non chiese l'alleggerimento e che quella guida era ciò che era stato ordinato all'inviato di Allah di seguire cioè Mosè gli ha dato una raccomandazione ma quando era nell'esercizio della funzione di inviato non aveva chiesto nessun alleggerimento anche se ne aveva pagato le conseguenze e questo sforzo di giurisprudenza lo indusse Muhammad a ritornare da Allah per chiedergli un alleggerimento del numero delle salate e non smise di andare e venire tra Allah e tra Mosè finché non disse ciò a cui lo condusse la dab mi vergogno di fronte al mio signore e la faccenda si concluse con l'alleggerimento un decimo quindi invece di cinquanta cinque salate e discese con quello dalla sua comunità e gli viene prescritto di legiferare per la sua comunità la giurisprudenza nei giudizi nei quali vi è il bene del mondo in quanto egli per mezzo della giurisprudenza era andato è venuto tra Allah e tra Mosè e ratificò ciò riguardo la sua comunità affinché essa diventasse familiare con quello che era occorso a lui e non si sentisse estraneo quindi l'esempio che qui viene riportato è che un giudizio che nasce da una situazione particolare in cui non sa come comportarsi perché si trova a un bivio tra due elementi che sono entrambi validi porta a una conclusione che in realtà non è quella che era voluta in un certo senso ma che viene ratificata non solo ma che diventa il prototipo per lo sforzo che i fakir i giurisprudenti devono fare nel formulare dei giudizi allora quello che viene fuori da tutto questo è che da un lato Muhyiddin ci fa vedere delle vette altissime di conoscenza nell'ambito della spiritualità della vita fisica ma dall'altro ci fa vedere anche un Islam che è molto diverso da quello che viene presentato oggi se da un lato nell'Islam c'è l'affermazione di un unico dio monoteismo l'Islam è tutt'altro che monolitico invece per quanto riguarda le regole ed è questa è la caratteristica della spiegazione che Muhyiddin dà di regole che sono apparentemente in contraddizione ma che hanno tutte un loro significato profondo e sta al credente dice lui di scegliere quella che è quella più adeguata a lui purché sia nel rispetto di queste regole direi che ho finito la mia mezz'ora e vi ringrazio per per avere ascoltato interrompi condivisione voilà grazie a tutti grazie a tutti